Oltre 2.500 ragazze e 20 centri professionali coinvolti sono i numeri di un'esperienza che ha visto fianco a fianco il CNOS FAP, Centro Nazionale Opere Salesiane, Formazione e Aggiornamento Professionale, e Apple sulla sperimentazione dell'iPad e le nuove tecnologie in aula, senza dimenticare l'aspetto pedagogico. Ecco, è un progetto che è partito tre anni fa, inizialmente coinvolgendo sei centri professionali, attualmente sono 20 centri professionali e 25 scuole salesiane sparse un po' per tutta l'Italia, coinvolgendo circa 5.000 ragazzi e 1.200 insegnanti e docenti. Questa mattina a Verona si è tenuto il convegno AI-Padagogia per fare il punto sulla sperimentazione con i pro e contro che comporta. La sperimentazione è in atto, ci siamo da tre anni per ragionare su questa cosa, chiaramente l'accentuazione è di tipo pedagogico, non tanto solo sull'aspetto tecnologico. Dalla sperimentazione sono emerse delle problematiche legate alla organizzazione, quindi non è solamente un fatto di docente e di aula, ma è un fatto di docente e di aula e di organizzazione delle strutture che le nostre in Italia sono pensate in maniera tradizionale, aule, orari, quindi abbiamo dovuto affrontare contemporaneamente non solamente la gestione dell'aula, ma anche la gestione dell'organizzazione delle classi. Tra i relatori è anche Andersen, preside dell'Orestad Gymnasium di Copenhagen, dove l'educazione e il metodo si avvalgono delle ultime novità della tecnologia, con una scuola realizzata su un modello architettonico e didattico organizzativo all'avanguardia. L'importante per noi è avere studenti che producono conoscenza e non solo consumatori di conoscenza. Usiamo materiale innovativo, i ragazzi devono leggere, utilizzare video, cercare le fonti nell'intento di risolvere i problemi. Leggere è la cosa più importante. Un moderno utente di internet legge molto di più delle generazioni precedenti. I nostri progetti non sono di non lettura, ma di una lettura in senso moderno, così tu hai entrambi i libri tradizionali, e-book con molto testo e materiali multimediali di apprendimento. È una combinazione tra materiali tradizionali e materiali moderni interattivi. Grazie.